Ecco Gertrude e Arnold. Questo porcellino è un po' più intelligente di Arnold. E no, non perché ha un chip Neuralink nel cervello, ma perché è arrivata qui in autobus, a differenza del nostro stupido dai capelli rossi che ha parcheggiato la sua macchina con la mafia per 50 dollari l'ora. In questa conferenza Elon Musk dimostrerà il processo di installazione di un microchip avanzato nel cervello di queste simpatiche scimmiette e nel prossimo futuro nel cervello di una persona. Arnold, smettila di stuzzicare i primati con le tue chiavi. Lo vedi? Grande. Beh, ce l'hai fatta, amico. Non capisco come Elon abbia potuto invitare un tale idiota alla sua conferenza. Da un punto di vista scientifico, Neuralink è un dispositivo abbastanza semplice. È un set di elettrodi che trasmettono impulsi elettrici dai neuroni nel cervello a un computer. Ma da un punto di vista tecnico, è un dispositivo sorprendentemente complesso. Immagina che il cervello sia una grande palla di fili straordinariamente aggrovigliati e devi connetterti con molta attenzione senza danneggiare nulla. Arnold, corri! È ora di pagare per il parcheggio. Un carroattrezzi prenderà la tua auto. Dobbiamo prendere le chiavi dagli scimpanzei il prima possibile. Con prezzi di parcheggio come questi, dovrai vivere di ramen da un dollaro fino alla fine del mese. Indossa il costume da scimmia. Avrai più fortuna in questo modo. Fidati di me. So che odora di formaggio da piedi, ma è solo per cinque minuti. Ancora una volta! Puoi farlo! Ehi ragazzi, dove state portando Arnold? Sono a me permesso sperimentare su di lui. Elon, per favore, si gentile con Arnold. Ma davvero, con chi sto parlando? Sono solo una voce nella testa di questo idiota. Il cervello di Arnold ha quasi le stesse dimensioni di quello di un primato e questa versione del chip gli si addice perfettamente. Grazie a Neuralink e Wi-Fi, Arnold può ora comunicare con altri proprietari di questo dispositivo tramite il potere del pensiero. Inoltre si beneficia di un enorme aumento della velocità di interazione con Internet. Arnold, dai! Concentrati! Ce la puoi fare! Scarica il linguaggio dei segni scimmia da Internet. Non ho mai dubitato che ci saresti riuscito, Arnold. Ma non pensavo che lo avresti trascinato fuori per un giorno intero. Pensavo fossi così stupido che nemmeno il chip Neuralink poteva aiutarti. Ma ti sei semplicemente dimenticato di accenderlo. Deficiente. Dai, preparati. Riprendiamo l'autobus con Gertrude. La tua auto è stata venduta per pagare le tariffe del parcheggio. Hanno preso 600 dollari per questo.